Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su Minecraft, signori, con la Maullocraft, andiamo avanti con le avventure. Allora, signori, lui non la muove la bocca come GTA e GTA, appena parlo lui muove la bocca, qui Minecraft ancora, questa patch non l'hanno aggiunta praticamente. Detto questo, signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie, e vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Maullo941, in cui tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video che escono sul canale e sulle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola. Detto questo, dove mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok, signori, si sentono strani i rumori, io non ricordo, qui c'era la lava e mi sembra che ci siamo già andati. Allora, in questo video, signori, noi dovremo semplicemente limitarci a esplorare la fortezza e a trovare il portale. E a trovare il portale, signori. Questi sono i nostri unici obiettivi di oggi. Ecco, ci mancava pure il Creeper, io dovrei avere un arco, sì? Ciao bel Creeperino, vattene a quel paese e non rompere le scatole a me, che sono appena arrivato. Te levi dalle scatole, grazie. Occhio agli zombie. Ecco, l'avevo sentito avvicinarsi, l'avevo sentito il suo fiato sul collo. L'avevo sentito... Aiai, aiai, mannaggiotte. Allora, signori, io devo comunicarvi una cosa gravissima. Ovvero, la cosa gravissima è che non ho le coordinate di casa mia. Tu che cazzo ci fai lì? Che sei il bigliettaio di turno? Un biglietto per la fortezza, grazie. E non ho le coordinate di casa mia. Non ho né quelle del Nether, per ritrovare il portale del Nether, né quelle per tornare a casa nostra, signori. Ho dimenticato a prenderle nello scorso video, pensavo di avercele da qualche parte e invece non ce le ho completamente, da nessuna parte. Quindi, in questa bellissima live, noi intanto cercheremo... Sì, live, ma che cazzo lo sto dicendo? Intanto cercheremo di buttare le cose che non ci servono via questa pietra che non ci serve. Cosa non ci può servire? Questo bottone non ci serve. Troppi scarponcini, atterraggio, atterraggio, questi normali buttiamoli via. Ok, intanto abbiamo fatto un po' di spazio. E recuperiamo così un po' di ferro, che poi il ferro mi serve, mi serve come la manna. Recupera, recupera. So che non è questo il nostro obiettivo, dovremmo trovare la libreria, che sarebbe la cosa più importante. Però, nuovo ricettario. Mi si sbloccano le ricette come se non ci fossero domani. Allora, 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 se non sbaglio, qui c'era. Sento gli passi, i passi di uno zombie che non vedo. Allora, qui sopra, se non ricordo male, dovrebbe esserci una cassa. Però, giustamente, mi hanno levato il fondo dove poter camminare. E ti sembra giusto? Ti sembra giusto così, proprio per agevolarci la situazione, la situation. Mi puoi mettere... Mi serve della pietra. Allora, stiamo calmi. Che situazione? Intanto si sentono mostri che muoiono e prendono fuoco in tutte le posizioni. Allora, se non ricordo male, qui sopra dovrebbe esserci una cassa. Per fortuna la memoria non mi inganna, ma c'è praticamente la povertà. Va bene. La lasciamo qui indossare. Allora, di là si va alla miniera, ma attualmente non ci interessa. Il nostro obiettivo è trovare il portale, signori. Dobbiamo trovare il port... Ciao, scheletrino! Sai per caso dove sta il portale? Che lo devo attivare e me ne devo andare via di qua. Quindi, signori, l'obiettivo principale di oggi è quello di trovare... Ma non si capisce nulla. Ma io dico, una fortezza normale non mi poteva capitare. No. Dove sta andando? Perché è scappato? Perché sta scappando? Non avevamo mai visto uno zombie scappare, signori miei. Dico, una fortezza normale non ci poteva capitare a noi, come capitano di solito. No. Sempre cose complicate. Sempre cose complicate. Allora, vediamo se riesco a trovare le librerie da qualche parte, signore. Che già sarebbe tanta roba riuscire a trovare le librerie. Di qua non c'è nulla. Porte che si aprono su porte. Aspettate, rompiamo qui. Passiamo da questa parte. Salve, salve, sono l'uomo del... Sono l'idraulico. Salve, devo ispezionare tutta la zona. Qui, abusivismo totale. E va bene, signori. Io continuo l'ispezione, perché mi sa che ci sarà molto tempo da perdere. Perché non... Guardate, ma che cazzo non è successo in questa fortezza? Tutto distrutto. Oh, mi sto confondendo. Non so dove stiamo andando, non so dove siamo stati. Non c'è un piano, non c'è un riferimento. Di qua ci siamo stati. Ok, di qua no. Ok. Qui si scende. Aspetta, aspetta, dai che abbiamo trovato qualcosa. Dai, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Un bel... Oh, ok. Aspetta, no, no, no. Qua continua. Qua continua. Qua si scende ancora. Dove si cazzo stanno? Al centro della terra. Allora, fermi, fermi. Ok. Apri questa. Rompi di qua. Così evitiamo di romperci le scatole. Qui c'è della lava. Questa cosa è gravissima. Di qua si gira. Dai che abbiamo trovato qualcosa. Che cazzarola ci fa quella lava alla ferma? Sì, mamma mia che paura. Ve l'ho detto che eravamo arrivati al centro della terra. Siamo arrivati al centro della terra. Ok. Cortesemente chiudiamo questa lava qui che mi fa abbastanza paura. Grazie, gentilissimi. Di qua si va da qualche parte. No. Ok. Provando così all'avventura. Mi sa che non troviamo assolutamente nulla. Il centro della terra. Troviamo. Da dove sei arrivato tu brutto zoticone? Mi fai spaventare così. Via, via, via. Torniamo indietro, signori. Torniamo indietro. Di qua c'è il centro della terra. Non penso ci sia niente di interessante. Sarebbe carino trovare dei diamanti. Dico, sarebbe la cosa più spettacolare del mondo. Ma non li troveremo mai nella vita. Va bene, signori. Piccolo taglio tecnico-tattico. Ci vediamo appena trovo la prima libreria. Che diciamo è quella. Una delle cose fondamentali che dobbiamo trovare. Due librerie e un portale del nether. Ciao, ti piglia picconate. Allora, signori. Piccolo aggiornamento. Abbiamo trovato una cassa là. Che praticamente è abbandonata lì. Alla sua... Buu. Cioè, guarda. No, 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 no. Il creeperino, il creeperino no. Il creeperino vicino alla cassa no. Meno male che non mi ha fatto esplodere la cassa. Meno male che non mi ha fatto esplodere la cassa. Dai, ma che è? È in zona di creeper. Ma porca della vostra sorelle gentili. Porca della vostra sorelle gentili. Che ci sta dentro la cassa? Un enderpearl. Dei pantaloncini di ferro che ci portiamo, signori, al posto di questi. Protezione 4. Protezione al fuoco. Atterraggio mobile. No, leviamo protezione al fuoco. Ci portiamo al posto di questi. Leviamo questo. Ok. Cos'altro possiamo lasciare? Cos'altro possiamo lasciare? La terra, che sinceramente non mi serve. Questi blocchietti ne prenderemo ancora in maniera aiosa. E va bene così. L'enderpearl, sinceramente, non mi serve. Perché c'è... Vabbè. Una volta ce l'abbiamo, ce le portiamo. Beh. Una cassa quasi inutile. Allora. Poi, poi di qua sotto si scende ancora. Ma io avevo visto qualcosa di interessante andando di là. Ovvero, scusatemi, intanto apriamo di qua. Che, se non sbaglio, qua dovrebbe esserci un'altra cassa. Bella così. Carbone. Va bene. Meglio di niente. Il carbone può tornare utile per le torce. Il pane non ci serve. C'è altro? No. Perfetto. Torniamo giù. E, signori, avevo visto un'altra cosa interessante. Se non sbaglio, andando di qua... Oh, ok. Carbone non ci serve. Oh, questo è un buon segnale. Perché dovrebbe essere il centro della fortezza. Quindi, qui vicino, noi dovremmo trovare il portale, secondo un'antica leggenda. No, non rompiamo la porta, sennò poi si la piglia e si la porta dietro questo. E, di qua niente. Giriamo a vuoto. Di qua si va da qualche parte. No, si gira a vuoto anche di qua. Andiamo in questa direzione di qua. Abbiamo tante belle porte da poter aprire. Questa non ci porta a nessuna parte. Una porta che non porta a nessuna parte è una cosa bellissima. Questa ci porta da qualche parte? Assolutamente no. Oh, un enderman. Ma assolutamente no. Qui c'è dell'altro ferro. Qui usciamo completamente dalla fortezza. Proviamo ad andare di qua, signori. Io continuo la ricerca, signori. Non so dove andare a sbattere la testa, vi giuro. Altra cassa, signori. Altra cassa in cui non troviamo anche qui niente. Ma che paranoie. Non stiamo trovando niente. Uffa, uffa, che tuffa. Qua dove siamo? Mamma mia. Dico una fortezza più semplice, no. Dell'oro. Dio, diamanti. Diamanti per caso per noi? No, neanche da lontano. Di qua c'è qualcosa di interessante. Sento dei ragni. Forse però dovrei anche mangiare. Continuiamo la ricerca, signori. Signori, una piccola buona notizia. Abbiamo trovato dei diamanti. Proprio così. A caso. A casa abbiamo trovato dei diamanti. Va bene. Non ho purtroppo il silk touch. Non ho nemmeno il piccone con fortuna. Quindi ce li pigliamo così a come vuole la sorte. Quanti ce n'è? Uno sicuro, sperando che ci sia la lava sotto. Uno, due, tre e quattro. Meglio di niente, signori. Meglio di niente. Che cosa buttiamo? Via l'osso. Sinceramente preferisco portarmi i quattro diamanti che l'osso. Ok. Quanto meno abbiamo trovato questi, signori. Quanto meno abbiamo trovato quattro diamanti. E continuiamo la ricerca. Non ho trovato ancora né le librerie, né le cazzarola, né il portale. Porca miseria. Di qua non si va da nessuna parte. Continua a cercare, signori. Continua a cercare. Signori, forse, forse, forse abbiamo trovato qualcosa di nuovo. È mezz'ora che giro. Oh, intanto un ragno che rompeva le scatole. Era lui che parlava da mezz'ora. Oh, e il ragno ce lo siamo liberati. Altra zona centrale. Qui c'è un'altra cassa, signori. Qui ancora non ci siamo arrivati. Che troviamo? Scarponcini e una mela. Ma chi se ne frega di queste chetinate? Allora, stiamo calmi. Stiamo calmi. Apri, 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 apri. Oh no, questa è pure chiusa. Niente da fare, signori. Non abbiamo completamente fortuna. Ma quantomeno, dico, riuscissi a trovare il portale. Mi basterebbe trovare il portale a questo punto. Dico, mi basterebbe trovare il portale. Non chiedo altro. Mi basterebbe trovare il portale. Portale. Perfetto. Perfetto. Altra cosa distrutta. Andiamo di qua. Oh, ma che è? Il rave dei creepen, signori. De creeper. Creepen. Creeper. Come in català si dice. Dai, ragazzi. Dai, così. Che piano piano li facciamo tutti fuori. Là c'è un altro che gioca a nascondino. Facciamo fuori pure quello. Mamma mia. Mamma mia. Dai, così. Dai, così. Spada in mano. Qui, ovviamente, giriamo a vuoto. E mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto che giriamo a vuoto. Questo è da dove avevamo visto nell'entrata. Perfetto. Ma porca. Altri creeper per noi, signori. Altri creeper per noi. Non ne posso più di tutti questi creeper. Ma porca miseria. Non ne ho mai ammazzati tanti, praticamente, in tutto il videogio. Li sto ammazzando tutti adesso. Tra l'altro. Dai, così. Dai, così. Dai, così. Che facciamo la tripletta. Tripletta fatta. Ok, altra zona scoperta, signori. Altra zona scoperta. Vediamo se abbiamo un po' più di fortuna. Qua ci sono le celle, ma qua dentro non dovrebbe esserci niente. Siamo vicini alle celle. Un'altra porta ad aprire. Che ci sarà qua dietro? Sento degli zombie. Degli zombie ci sono di sicuro. Spada in mano. Ok, zombie, altro punto d'acqua. Forse siamo vicini a qualcosa, signori. Forse siamo vicini a qualcosa. Forse siamo vicini a qualcosa. Fermi tutti. Di qua c'è la lava. Che cazzo non è successa questa lava? Via, via. Chiudila subito prima che si riprende e ci casca tutto addosso. Ok, mettiamo una torcia per sicurezza. Ok. Noi vediamo da là. Noi vediamo da là. Giriamo di qua e qui non c'è niente. No, vabbè, raga. Ma mi stanno a prendere in giro. Mi stanno a prendere in questo video. Non so quanto devo farlo durare, praticamente, per far vedere tutto quanto. Altre celle per noi. Non ho più torce in mano. Dammi le altre torce. Ok. Non ci credo. Finisce così. Non c'è una strada? Non c'è niente? No, non ci posso credere. Finisce così. Io non so dove andare, signori. Me la sono girata tutta sta fortezza. Tutta, tutta, tutta. Me la sono girata tutta sta fortezza. Non so dove andare ancora. Signori, allora, mentre continuavo a cercare e ho iniziato a scavare a caso, praticamente, abbiamo trovato il portale. Ho trovato anche dei diamanti che ho iniziato a recuperare. Ma c'è un problema, signori. C'è un problema che io non so se è risolvibile o dovremmo andare a cercare un'altra fortezza. O dovremmo abbandonare questa serie. No, 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 forse no, forse non c'è nessun problema. Sono io che sono scemo, signori. Forse sono io che sono fottutamente scemo. Abbiamo trovato il portale, signori. Abbiamo trovato il portale. Ce l'abbiamo fatta. Mi fate distruggere lo spawn di questi mostri terribili. Ok. Abbiamo il portale, signori. Con due occhi. Quindi me ne mancano tre, sei, nove. E una dieci. E io quanti ne ho? E io ne ho ne ho nove. E una dieci. Vabbè, li possiamo costruire. Abbiamo il portale, signori. Ma porca miseria. Da dove ci si arrivava? Mannaggia loro. Da dove ci si arrivava? Ora, volete vedere che trovo pure le librerie? Da dove cazzo ora ci si arrivava? Da qua ci siamo stati noi qua? Sì, là c'è il creeper. Da qua ci si arrivava. Ora, volete vedere che mi sono perso di nuovo? No, va bene. Ok. Abbiamo il portale, signori. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. È stato peggio di un parto. Io non ho mai partorito, ma questo è stato peggio di un parto. Allora, non abbiamo trovato le librerie. In confronto. In confronto non abbiamo trovato le librerie. Va bene. Ce ne faremo una ragione. Allora, andiamo a mettere un attimino tutto quanto la situazione in sicurezza. In sicurezza direi di creare un bel portale. Che lo possiamo creare. Il portale più o meno lo potremmo creare anche qui. Sì, ci sta il portale qui. Uno, due. Dobbiamo un attimino allargare questa zona di qua. Perfetto. Dammi l'ossidiana che ci siamo portati giusto per questa situazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok. Dovremmo esserci. Ora dovremmo riuscire a accendere... Non li voglio a questi cosi. Dovremmo riuscire a accendere il portale. Perfetto. Il portale l'abbiamo acceso. Mangiamo, signori. Facciamo un'altra di... Aspettate, devo fare la polvere di blades, però. Ok. Cosa ci facevo con una zappa indiamandata? Va bene, superfluo. Ok. Questa la rimettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Abbiamo raccolto anche dieci diamanti. La spedizione è andata bene. Attiviamo il portale, signori. Ma dai, sto tirando le enderper, sono un pirla. Ma le ho recuperate? Dove sono finite? Ho tirato due enderper. Ma come si fa ad essere così scemi? Dobbiamo andarne a fare altri due. Ma porca. Ce le avevo contate. Ce le avevo contate, mannaggia. Ok. Dobbiamo andarne a farne altri due. Una lì. Andiamo a farne altri due velocemente. Signori, sono scemo. Le ho tirato. Meno male che ce l'ho dietro, praticamente. Ho tirato due enderper come se non ci fosse un domani. Va bene. Va bene. Facciamo altro di questo. Altre due mi bastano. Questa la metti qua. Facciamo le... No, non questo. Mi serve fare questo. Così. Ok. Le facciamo altre due così. Mi libero lo spazio dalle cose. Se però magari le mettiamo qui. Ok. Video durato tre ore. Un video durato tre ore. Per sicurezza ci andiamo vicini. Uno e due. Abbiamo attivato il portale, signori. Non vorrei entrarci ora subito. Però chiudiamo questo video cambiando l'inquadratura e facendo la cosa carina. Aspettate, aspettate, aspettate che ci riesco, ci riesco, ci riesco. Ok, signori. Detto questo, dopo non so quanto tempo ce l'abbiamo fatta. Abbiamo attivato il portale. Siamo pronti per andare al drago. Ma, prima di tutto, io devo tornare a casa. a farmi delle pozioni, sistemarmi un poco meglio l'armatura. Detto questo, signori, ci vediamo prossima settimana per un prossimo video, sempre della Maulograft. Bella raga. Ciao!